Forze politiche, residenti, associazioni e movimenti, tutti in prima linea per dire no all'iniziativa imprenditoriale dell'impianto a biomasse presso la Cronio nel Disciacca. Alla regione non risulta nessun progetto, afferma ai nostri microfoni Michele Catanzaro, l'unico deputato del territorio presente oggi all'incontro. Io fino a ieri che sono stato in aula a Palermo ho parlato con l'assessore all'energia il quale non sapeva nulla di documentazione in possesso all'assessorato regionale quindi bisogna avere la grande pazienza e soprattutto in questo caso non bisogna dividersi politicamente o trovare formule di strumentalizzazione politica ma essere tutti uniti verso la stessa direzione e mi pare che questa sia la direzione della politica saccense. Un progetto che fa discutere, anche se ancora in assenza di interlocuzione con l'azienda, non è chiaro quale processo produttivo sarà portato avanti e che tipo di residui, emissioni e rifiuti saranno prodotti. In realtà leggendo le carte ancora non c'è chiaro quello che la ditta Moncada vuole fare in quell'impianto. E che tipo di autorizzazioni ha effettivamente ottenuto e cosa gli manca per essere operativo. Quindi c'è una situazione di incertezza che alimenta chiaramente la preoccupazione dei residenti. Ora senza creare nessun tipo di allarmismo effettivamente quello che si legge in relazione desta qualche preoccupazione. Noi come gruppo consigliare, come centrodestra, ma tutto il Consiglio Comunale ha espresso un no netto a qualsiasi tipo di impianto si voglia fare che possa danneggiare le coltivazioni biologiche. Sinceramente siamo più per il progresso con le nostre risorse naturali che non con un impianto di biomasse. E' chiaro che oggi sinceramente il nostro interlocutore non può essere Moncada ma è l'amministrazione che in occasione del Consiglio Comunale che si è tenuto e che purtroppo io non ho potuto partecipare per problemi personali dice che non conosceva né l'entità del progetto, che non c'era nessuna autorizzazione salvo poi 24 ore dopo capire che c'erano delle autorizzazioni già firmate. Oggi bisogna capire questo e se è successo bisogna spiegare perché queste autorizzazioni sono state date visto che c'è la volontà di tutti a non far installare un impianto che potrebbe essere nocivo per tutti tra l'altro molto vicino al centro abitato. E' mancata l'interlocuzione tra l'aspetto politico e l'ufficio tecnico? E' mancata l'interlocuzione, in realtà gli uffici oggi hanno chiarito che quello che è stato dato anche alla stampa riguarda dei procedimenti che nulla hanno a che fare con la realizzazione dell'impianto di cui stiamo parlando ma che fanno riferimento all'attività di distilleria che già c'è e c'è da tanto tempo perché è una cosa che c'è da tanti anni e quindi non hanno alcuna attinenza con la realizzazione dell'impianto.